Amici di Unica Channel ben trovati, apriamo la pagina dedicata al gossip, quando l'arte diventa provocazione. Berlusconi morto? In realtà è solo una scultura. Il corpo dell'ex premier è esposto a Palazzo Ferraioli a Roma. In realtà si tratta di una statua dormiente, realizzata in resina dai capelli veri ed intitolata Il sogno degli italiani. I due artisti, Antonio Garullo e Mario 800 spiegano, ormai è diventato un'icona pop. Non solo un'icona televisiva, ma anche un'icona dell'arte, un progetto portato avanti dal 2010, ma che solo oggi hanno reso pubblico per decontestualizzarlo. Un'opera paradossalmente realizzata da una coppia gay. Meglio andare a femmine piuttosto che gay, disse la loro premier. Ogni parte della statua infatti ha un suo significato, dalla teca, che è simbolo di contenitore di un'epoca, alla testa, che è inclinata verso sinistra per simboleggiare il suo astio verso i comunisti. E mentre così la statua spopola sul web, Silvio Berlusconi, con il suo aplomb inglese, ha risposto così. Grazie. 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 Grazie.